Nel giorno in cui è stato affiancato nella difesa di Filippo Turetta dalla penalista a Padovano, Giovanni Caruso, Emanuele Compagno, avvocato assegnato d'ufficio della Procura di Venezia, è stato travolto dalle polemiche per alcuni suoi post e video pubblicati dal legale qualche anno fa. In particolare si punta il dito su alcuni video caricati nel canale YouTube di Compagno nel 2021, video in cui l'avvocato Compagno affronta il tema della violenza di genere commentando delle trasmissioni TV. La donna veniva trattata come una menomata, come un'incapace, se ubriaca e scusata. L'alcol è una scusante per la donna, mentre non lo è per l'uomo. Una totale deresponsibilizzazione della donna, come se fosse un oggetto incapace di autodeterminarsi. Queste le parole usate da Compagno in un video che ora viene citato contro il legale, insieme ad altri post su Facebook in cui parla sempre delle donne e della violenza di genere.